Se anche tu come me sei uno smanettone oppure un aspirante amministratore di sistema o programmatore devi assolutamente saper utilizzare SSH. Si tratta del protocollo che ti consente di accedere ai sistemi remoti in tutta sicurezza per poi configurare server web con PHP o Node.js, email server aziendali oppure server per il file sharing ma anche soluzioni più specifiche e particolari come ad esempio dei proxy server oppure dei server VPN in grado di accettare le connessioni dall'esterno o addirittura strumenti per l'accesso alle blockchain come quella di Bitcoin, Ethereum o molte altre criptovalute che abilitano le tecnologie web 3. Ah dimenticavo, ciao sono Zanni di Turbola.it e in questo video vedremo proprio tutto quello che ti serve per partire da zero e utilizzare SSH dal tuo PC con Windows, Linux oppure Mac. Il video è realizzato in collaborazione con Infomaniac, il provider di soluzioni cloud con base in Svizzera con oltre 30 anni di esperienza e una fortissima etica orientata al green e allo sviluppo sostenibile. Quindi se l'argomento ti interessa e anche tu vuoi diventare uno specialista, un esperto di SSH, seguimi. Prima di cominciare vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbola.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Ma che cosa è SSH? Il modo più semplice per spiegartelo è tramite una analogia. Hai presente i programmi come desktop remoto oppure TeamViewer? Quelli che ti consentono di controllare un altro PC da remoto? Ebbene, allo stesso modo SSH ti permette di lavorare su un sistema da remoto con l'unica differenza che funziona da linea di comando e non tramite interfaccia grafica. Ne deriva che dopo aver eseguito login da remoto sul sistema che vogliamo controllare possiamo impartire comandi da terminale ed eseguirli non sul sistema locale ma sul sistema remoto al quale siamo collegati. Per utilizzare SSH dal tuo PC abbiamo bisogno di un paio di elementi. In particolare ci serve chiaramente un PC dotato di Windows, Linux oppure Mac e un computer remoto al quale collegarci. Questo computer chiaramente può essere un server virtuale, quindi un VPS, un server cloud ma anche un Raspberry Pi sulla tua scrivania o una macchina virtuale. Ci serve chiaramente l'indirizzo IP della macchina alla quale vogliamo collegarci come ad esempio questo che è il server attuale di Turbola.it oppure un nome a dominio, quindi il nome della macchina ADNS sulla quale vogliamo collegarci. E chiaramente in ultimo abbiamo bisogno di un set di credenziali ovvero ci serve uno username e la relativa password con le quali autenticarci sul sistema remoto che vogliamo controllare. Ciao scusa per l'interruzione, se il video ti piace ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere, per me è sempre davvero estremamente importante. Quindi grazie, grazie davvero se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando non dimenticare la campanella. Torniamo al video. Qualche nota rapidissima per gli utenti Windows. In particolare il comando SSH che andremo a utilizzare è disponibile da Windows 10 17.09 che comunque è una vecchia versione del 2017 e quindi dovrebbe essere disponibile un po' su tutte le installazioni di Windows 10 ancora in circolazione. Per il resto tutte le build di Windows 11 integrano nativamente il comando SSH ma raccomando in ogni caso sia per gli utenti di Windows 10 che per gli utenti di Windows 11 e per gli utenti di aggiornare SSH all'ultima versione seguendo appunto il link che ho lasciato qui nella guida. Quindi come abbiamo detto hai bisogno di un sistema al quale collegarti in SSH e per questo ci vengono in aiuto gli amici di Infomaniac che sono appunto lo sponsor del video di oggi. Appunto sono un provider come dicevamo con base in Svizzera, fortissima vocazione cloud che offre appunto una serie di servizi che perfettamente si sposano con il video e le tematiche di questo tutorial. In particolare qui una volta essersi registrati dopo essere entrati abbiamo la possibilità di acquistare un nuovo WPS quindi un server virtuale privato e appunto i prezzi sono veramente eccezionali perché per quanto riguarda il WPS Lite che va benissimo per fare delle prove per smanettare si parte appunto di 3 euro al mese che è un ottimo prezzo mentre in seguito quando appunto saremo pronti e potremo deployare il nostro progetto in produzione potremo fare affidamento su un WPS cloud più completo a partire appunto da solo 29 euro al mese. Bene dunque abbiamo tutto quello che ci serve per connetterci al nostro server in SSH quindi la sintassi generale del comando è quella che vedi qui a schermo quindi abbiamo chiaramente il comando SSH seguito dal nome utente che vogliamo utilizzare per l'autenticazione sul server remoto e lo ripeto bene perché questo è spesso fonte di confusione il nome utente da inserire qui è quello che dobbiamo utilizzare sul server remoto quindi deve esserci un account sul server remoto con il nome utente indicato qui noi mettiamo una chiocciola at seguita dal nome del server che vogliamo raggiungere oppure il suo indirizzo IP vediamo la procedura in pratica quindi immaginiamo di essere in questa situazione quindi ho creato un server che si chiama appunto test.turbo.it al quale vogliamo collegarci in SSH questo server ha appunto l'indirizzo IP che ho indicato qui quindi potremo utilizzare allo stesso modo il nome del server quindi il nome a dominio oppure il suo indirizzo IP utilizzeremo poi il nome utente ZANE sul server remoto per l'autenticazione e questa è la password del cavolo che ho impostato giusto per fare questa prova quindi abbiamo detto che vogliamo impartire il comando SSH seguito dal nostro nome utente che deve essere appunto ZANE at dobbiamo a questo punto utilizzare o il nome a dominio oppure l'indirizzo IP io prendo il nome a dominio ma commetto un errore perché metto diverse T perché voglio farti vedere che cosa succede quando si sbaglia il nome del server al quale vogliamo connetterci a questo punto potrebbe essere necessario indicare espressivamente la porta quindi con il parametro meno P seguito dal numero della porta ora di default SSH gira per impostazione predefinita sulla porta 22 quindi generalmente a meno che tu non abbia appunto delle indicazioni diverse non è necessario indicare il numero di porta sappi però che se serve si indica con meno P spazio e il numero della porta quindi proviamo a fare una connessione in questo modo e quello che ci viene risposto è che il nome a dominio non viene risolto proprio perché a DNS non è presente una entry non c'è una riga con questo nome a dominio riproviamo facendo un altro esperimento perché è importante perché sono tutte le casistiche che poi potresti affrontare e con le quali dovresti avere a che fare in particolare proviamo invece che utilizzare l'indirizzo IP reale del server a mettere un indirizzo IP che non esiste sulla nostra rete quindi ad esempio non lo so possiamo provare a mettere 244 quello che viene risposto è appunto che dopo un po' in cui il computer prova a collegarsi viene risposto con un timeout proprio perché non è possibile connettersi a questo server ho voluto farti vedere queste due situazioni quindi nome a dominio sbagliato oppure indirizzo IP sbagliato subito perché sono generalmente alcune delle casistiche che si presentano più di frequente ma facciamo ora le cose per bene e proviamo veramente a collegarci al nostro host reale quindi nome utente chiocciola server al quale voglio collegarmi eccolo qua non appena batto invio mi compare questo avviso che mi appunto avvisa che il nostro computer non è in grado di garantire che l'host al quale ci stiamo collegando quindi il nostro test turbot.it sia veramente quello a cui abbiamo intenzione di collegarci ora questo messaggio ti apparirà ogni volta che proverrai a collegarti per la prima volta ad un nuovo server e le implicazioni security di questo messaggio sono veramente molto profonde ora per brevità non racconterò tutto qui però ti invito a fare riferimento al mini approfondimento che ho scritto su turbot.it con tutte le implicazioni per i nostri scopi per procedere in velocità io ti raccomando come minimo come minimo di fare attenzione e verificare quantomeno se hai utilizzato come in questo caso un nome a dominio un nome a dns che l'indirizzo ip sia appunto quello che ti aspetti in questo modo ridurrai un po' le possibilità che ci sia un problema quello che vorrai fare comunque è scrivere yes e battere invio come ci viene scritto a questo punto questo specifico host quindi il nostro host al quale ci siamo collegati è stato salvato e la prossima volta che proverai a collegarti di nuovo a questo stesso host non ti comparirà più questo messaggio di avvio a questo punto siamo quasi pronti ad entrare ci viene quindi richiesta la password da utilizzare appunto per eseguire login con questo account quindi la nostra password è qua 123456 invio ed ecco che se tutto va bene come è andato bene in questo momento siamo riusciti ad entrare sul server remote a questo punto possiamo utilizzare tutti i comandi propri del sistema operativo al quale siamo connessi io ad esempio in questo caso sono connesso ad un sistema ubuntu e quindi posso impartire ad esempio lsb release-a per vedere i dettagli del sistema operativo e scoprire così appunto che sono connesso a un sistema operativo ubuntu 2204 appunto lts nell'articolo su turbola.it ti ho lasciato ancora un po' di comandi quindi ls-la appunto per vedere la lista dei file pvd per vedere in che percorso ci troviamo quindi ad esempio se io impartisco pvd in questo momento ecco che mi dice che sono all'interno della mia cartella home appunto perché ho fatto login con l'utente zane quando ho fatto appunto il login tramite ssh in qualsiasi momento potrò appunto tornare alla cartella indicata quindi posso entrare in qualsiasi cartella tornare alla mia home con questa sintassi cd dollaro home oppure creare una nuova cartella acquisire i privilegi di super utente copiare, spostare i file e via dicendo al termine della tua sessione di lavoro quello che devi fare è impartire il comando exit oppure come preferisco di gran lunga fare io battere ctrl più d di domodossola sulla tastiera per chiudere la connessione ssh e tornare al tuo pc chiaramente in qualsiasi momento potrai nuovamente impartire il comando ssh per collegarti di nuovo al tuo server ci sono ancora un paio di cosine molto interessanti che si possono fare con ssh in particolare è possibile accedere tramite una chiave asimmetrica una chiave di identificazione che è semplicissima da generare questo ti permette ad esempio di collegarti senza bisogno di digitare ogni volta la password qui su turbola.it appunto c'è l'approfondimento testuale con la guida passo passo per svolgere questa procedura ancora se ti interessa c'è la possibilità di trasferire i file via ssh quindi da linea di comando utilizzando il comando scp puoi movimentare file e caricarli verso il tuo host ssh remoto oppure scaricarli in locale dei file che già si trovano sul server per gli utenti avanzati c'è la possibilità di creare un tunnel ssh che ti permette appunto di instradare tutto il tuo traffico verso il server ssh e quindi uscire su internet passando dal tuo server ssh e qui di nuovo c'è la guida passo passo di nuovo se hai una configurazione particolarmente complicata per ssh devi digitare molti parametri dai un'occhiata a questa altra guida eccola qua che ti mostra appunto come trasformare un lungo comando come questo in un comando brevissimo tramite una sorta di rubrica delle configurazioni dei tuoi server che puoi appunto creare e salvare infine un'altra cosina molto importante che probabilmente dovrai fare se condividi il server con altre persone è creare anche per loro un account ssh ma anche in questo caso la procedura è veramente facilissima perché sostanzialmente basta generare un nuovo account utente sul server esattamente come faresti in qualsiasi altra situazione in cui hai bisogno di creare un nuovo account bene da zona di turbo l'appunto è tutto come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere per me è sempre estremamente importante quindi grazie grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo per il resto ti consiglio di dare un'occhiata di nuovo ai nostri amici di Infomaniac se ti serve un VPS, un server cloud per il tuo prossimo progetto e di non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco per essere avvisato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia e quindi Windows, Linux oppure operazioni DevOps come quella di oggi e tutto quello che orbita attorno al mondo tech al prossimo video, ciao!